Come ti sei fatto male? Questa è la domanda che mi fanno spesso. Come ti sei fatto male? Un incidente? In moto? Io dico no, un incidente sul lavoro. Come un incidente sul lavoro? E come è successo? Siamo giunti lì per i primi soccorsi. Ho visto mio fratello ancora agonizzante, quindi l'ho preso in braccio con la collaborazione degli infermieri del 118 che loro non conoscendomi non attribuivano la mia parentela con l'infortunato ripetevano più volte questo è morto, questo è andato, questo è... Eravamo in quattro, addirittura c'era il datore di lavoro. Anche lui è giovanissimo, tre morti e l'unico figlio.